In occasione della tredicesima giornata europea dei genitori e della scuola, domani mattina alle 10, tutti i genitori degli alunni che fanno parte del comprensivo Quasimodo saranno ricevuti nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo diretto dal neo dirigente scolastico Luigi Costanza. Al termine dell'incontro i genitori potranno visitare accompagnati dal personale della scuola l'Istituto nonché intrattenersi con i docenti presenti per un breve ma significativo scambio di opinioni. Potranno anche assistere alle lezioni o richiedere informazioni sull'andamento didattico dei figli e sulle assenze. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal preside Costanza, il quale ha dichiarato di avere molto a cuore questi appuntamenti che servono a creare un collante più forte tra scuola e famiglie. Il dirigente scolastico infatti, sin dal suo insediamento, ha deciso di creare momenti di condivisione, la festa dell'accoglienza tra tutti, un'iniziativa che lo stesso ha ideato e realizzato grazie alla collaborazione dei docenti e del personale scolastico. Purtroppo, dice il preside Costanza, non abbiamo avuto il tempo necessario per organizzare la festa dei nonni che si è svolta il 2 ottobre, ma con la festa dei genitori, che peraltro saputo non è stata mai vissuta nel nostro istituto, contiamo di rifarci e speriamo anzi che siano in tanti domani presenti a questo importante appuntamento extracurriculare, ma comunque significativo per i nostri alunni, per una sana e positiva crescita umana e sociale dei ragazzi.